buongiorno e bentrovati oggi parliamo di tecnologie di backup in maniera particolare parliamo di inverse chain technology io sono Claudio Panerai responsabile tecnico di ACAB iniziamo subito a dire diciamo così a chi è rivolto questo webinar e in maniera particolare dedicato a chi si occupa di T concretamente quindi dagli amministratori T ai progettisti agli specialisti di backup e i tecnici di supporto perché diciamo così pur senza spaccare il bit però parleremo un po' di full di differenziali di blocchi di disco di questo tipo di aspetti come è organizzata la sessione che stiamo iniziando allora facciamo un capitolo per introdurre cos'è la inverse chain technology e quindi capiremo quali sono gli elementi base di un backup come funziona normalmente un backup in azienda e in uno scenario disaster recovery faremo un approfondimento su diciamo così come funziona il backup normali e qual è invece la differenza con inverse chain technology una volta che capiamo questa differenza andiamo a capire quali sono i benefici di questa tecnologia cioè cosa significa per gli utenti finali o per i fornitori di servizi e vado a chiudere con due parole sulla proposizione di dato che è il metodo diciamo così la tecnologia integrata nelle soluzioni di backup e disaster recovery di dato quindi vediamo come la inverse chain può arrivare sul mercato partiamo dall'inizio quindi cerchiamo di andare a capire che cos'è la tecnologia dato inverse chain partiamo dall'inizio e cerchiamo di capire quali sono gli elementi base di un backup diciamo che partendo proprio dal minimo indispensabile un backup basta pensare a un pc a un disco esterno o un disco di rete e un sincronizzatore un programma di backup che trasferisce i dati dal pc di lavoro al nostro disco fisso questo è l'elemento minimale però ci tengo a sottolinearlo perché quando ci spostiamo da un elemento minimale che potrebbe essere un privato o un singolo professionista se andiamo ad analizzare il backup aziendale e il disaster recovery aziendali gli scenari si complicano immediatamente quindi andiamo a vedere quale potrebbe essere uno scenario di backup e disaster recovery in una realtà professionale in una realtà aziendale indipendentemente da quello che questa realtà si trova a fare allora sicuramente abbiamo il sito primario di lavoro dove ci saranno una serie di pc o server macchine chiamiamole come vogliamo naturalmente ci sarà uno storage dedicato a mantenere i backup e un sistema di gestione del backup potrebbe essere un software con un scusate un server con un software di backup un desktop dedicato comunque ci vuole una postazione che governi il backup poi in questo sito ci sarà naturalmente lo storage primario che è quello di lavoro e nel caso in cui backup diciamo così dovesse essere necessario accedere ai backup perché è morto qualcosa i server non sono più disponibili ci deve essere un sistema di recovery locale che potrebbe essere un muletto un altro host gli scenari possono essere disparati ma è giusto per fissare le idee dunque lo scenario si complica ulteriormente se andiamo ad analizzare che cosa succede quando vogliamo creare una soluzione di disaster recovery in locale diciamo così gli elementi sono più o meno abbastanza notti per tutti si può decidere di fare soluzioni più o meno complesse e sofisticate ma sicuramente quando mettiamo in mezzo il disaster recovery lo scenario si complica si complica perché dobbiamo avere delle macchine degli host nel sito remoto dobbiamo avere in qualche modo lo stesso storage dei backup dall'altra parte per poter ripartire così come dobbiamo avere un sistema di gestione del backup che mi permetta le ripartenze potrebbe essere uguale a quello che ho nel sito primario ma non è assolutamente detto io potrei avere un backup da una parte e un altro sistema di recovery dall'altra e così come dovrò preoccuparmi di avere un qualcosa che mi tiene diciamo così mirorati i dati e i sistemi perché se devo ripartire in remoto devo poter riprendere a lavorare bene questo scenario nel quale più o meno io credo ci si possa ritrovare tutti porta con sé delle complessità innanzitutto possiamo trovarci con ambienti fisici virtuali oppure addirittura tutte e due nello stesso ambiente di lavoro a seconda delle macchine che si usano si scatena la infinita gara fra backup e restore per file o per immagini non esiste una cosa migliore di un'altra ma diciamo esistono entrambi gli scenari così come a seconda delle macchine che ho il tipo di host per esempio macchina fisica o anche il tipo di hypervisor che potrebbe essere hyper v piuttosto che vmware o altri ancora possono dettare aumentare la complessità del backup la consistenza delle applicazioni in ambito windows ma anche in ambito linux può essere un elemento chiave decisivo per il backup e disaster recovery e devo anche decidere nel caso volessi creare un sistema di recovery locale come comportarmi con i sistemi di stand by tipo muletti o host pronti a far ripartire il sistema e questo è una serie di elementi di complessità un secondo gruppo di elementi di complessità non meno importante riguarda proprio la gestione del backup e del recovery perché il testing dei backup può richiedere del tempo il testing del disaster recovery può richiedere downtime programmati se fatti coscienziosamente la gestione delle licenze potrebbe essere complessa perché i software di backup sono sicuramente tanti alcuni richiedono dei plugin aggiuntivi per fare delle operazioni per esempio per lavorare su exchange o su sql server e quindi non solo devo preoccuparmi di acquistare il software di backup ma devo anche gestire eventuali plugin per necessità particolari così come devo preoccuparmi di eventuali upgrade di firmware dello storage che contiene i miei backup per non parlare degli aggiornamenti software proprio del mio software di backup e se vado a fare diciamo così un vero e proprio disaster recovery devo comunque organizzarmi con una sede remota o con un cloud che sia a disposizione devo strutturarlo e premunirmi che sia a disposizione quando devo fare i miei test di backup quindi da questo scenario che quello normale nel quale lavoriamo tutti appare abbastanza evidente che il backup e la business continuity o disaster recovery sono delle realtà complicate che portano via tempo e sono anche costose eppure c'è una non dico una contraddizione ma c'è una cosa da tenere presente che è una cosa complessa e costosa ma è anche la cosa più importante per tenere in piedi le nostre aziende bene allora andiamo adesso a vedere un attimino dopo aver fatto questa overview e aver condiviso con voi quali sono gli elementi di complessità dei backup andiamo a vedere alcune tipologie di backup e quali sono le limitazioni che portano queste tipologie di backup andiamo a lavorare con i backup full che credo che ognuno di voi mastichi tranquillamente da anni ma andiamo a mettere nero su bianco quello che succede se io faccio un backup full dovrò backupare salvare tutti i dati o tutta l'immagine non sto adesso a definire che tipo di backup stiamo facendo e li dovrò andare a scrivere sul dispositivo di rete se poi il giorno successivo vengono modificati solo i dati a e d come nella mia figura benissimo il mio software di backup andrà in ogni caso a fare un backup completo quindi anche se ho modificato solo due dati viene backupato tutto il mercoledì addirittura viene backupato un solo dato scusate viene modificato un solo dato che è il dato b e il mio software di backup sempre se faccio un full va avanti a fare un backup completo e così via gli altri giorni della settimana anche se mi vado a diciamo così modificare solo una quantità marginale di dati ecco che il mio backup full mi va sempre a scrivere un backup completo che sia un backup per immagini o per file lo ripeto è abbastanza irrilevante e quando poi ricomincia la settimana il lunedì non ha nessuna importanza si va avanti a fare un backup completo quindi diciamo che il backup completo ha alcuni vantaggi perché per esempio questo è l'ultimo anello della mia serie ha una serie di vantaggi perché per esempio io posso andare a cancellare due backup senza impattare su niente su nessuno poiché sono tutti backup uno slegato dall'altro io posso decidere di rimuovere questi elementi per contro lo sapete meglio di me i backup full sono più lunghi i backup full richiedono più cpu più ram più rete e soprattutto più storage nonostante esistano fior di sistemi di compressione e di duplica per risolvere diciamo così i limiti dei backup full da anni si utilizzano i sistemi incrementali con trucchi più o meno tecnologici per diciamo così farli essere sempre aggiornati e utili anche ai giorni nostri allora un backup incrementale in realtà parte sempre con un backup full che è il backup completo della mia macchina o del mio server se lunedì vengono modificati due elementi benissimo il mio software di backup andrà a creare un un link al backup precedente dicendo che erano stati modificati solo quei due dati analogamente se il martedì si modifica solo un dato il dato b si crea un link al backup precedente e vado a backupare solo il dato b e così via per gli altri giorni della settimana se modifico i blocchi c ed f si crea un ulteriore link esclusivamente con i blocchi modificati faccio andare avanti un po i miei puntatori se non si modifica nulla ci sarà una cosa abbastanza impossibile ma diciamo così un puntatore al backup precedente senza aver scritto nessun dato e così via si ricomincia andando a scrivere solo i dati modificati per tutto il resto del tempo diciamo così del mio scheduling dei backup allora diciamo che ci sono alcuni aspetti desiderabili in questo meccanismo di backup incrementale ripeto poi declinato in mille modi diversi a seconda dei dei vendor il backup incrementale ha una serie di considerazioni da fare la prima considerazione che porta alle cosiddette inglesi li chiamano chain cioè le catene di dipendenza cioè si deve continuamente andare all'indietro preso un backup in realtà questo backup non è mai valido da solo ma è valido solo se collegato ai precedenti questo limita la frequenza del backup e porta a avere degli rpo recovery point objective buoni ma non eccellenti cioè c'è un limite fisico sotto il quale è difficile se non impossibile scendere fare degli incremental forever in realtà in qualche modo costringe a dei backup full regolari che hanno una serie di conseguenze per esempio possono essere pesanti in termini di risorse del sistema e vari produttori di software hanno dei trucchi diciamo così per sostituire il backup full regolare regolare con dei backup full diciamo così intermedio cose di questo tipo però il discorso che vanno sempre ricostruiti non cambia inoltre le catene di backup portano dei limiti nella cancellazione cioè non è sempre fattibile cancellare qualunque punto della catena se non a costo di dover andare a ricostruire la storia del backup e a proposito di ricostruire diciamo che quasi ogni restore richiede comunque una ricostruzione della catena che può essere più o meno veloce e nel caso in cui si debbano andare a costruire sistemi virtuali a partire da questi backup ecco che la ricostruzione delle macchine virtuali e l'avvio potrebbe richiedere del tempo inoltre diciamo che se un sistema fatto basato su queste regole andiamo ad aggiungere la complessità che abbiamo vista prima e i costi non solo di licenza ma proprio anche di overhead sistemistico ecco che possono venire fuori delle domande cioè possiamo ridurre i costi legati a questo tipo di backup e recovery riducendone le complessità ed eliminare i problemi delle catene di backup che sono presenti più o meno ovunque e la risposta è sì è possibile adesso quindi entriamo a vedere un attimino più in dettaglio come costituita la tecnologia dato inverse chain che in realtà è per certi versi simile agli incrementali ma introduce degli elementi non indifferenti innanzitutto andiamo a vedere quali sono gli elementi costitutivi della ricetta allora viene utilizzato un file vmdk come container cioè la destinazione dei backup è un file vmdk che ha una serie di caratteristiche comode intanto è già un'immagine cioè non solo lo usiamo come contenitore ma è già un'immagine di una macchina quindi è perfetto per fare i backup per immagini nonostante poi possiamo anche andare a recuperare singoli file il fatto che sia un container di tipo vmdk cioè una macchina fatta e finita permette di avviare un backup istantaneamente sia che questo risieda su un appliance dato che sarebbe lo storage dove io vado a depositare backup sia che questo si trovi in nel cloud per cui è possibile avviare istantaneamente i backup e questo è possibile farlo sia per sistemi fisici sia per sistemi virtuali cioè la destinazione è un file vmdk ma l'origine può essere qualunque cosa sia una macchina virtuale sia una macchina fisica e visto che ho parlato di origine diciamo che di default la tecnologia adatto lavora con agenti agenti che garantiscono il la consistenza dei recovery point o degli snapshot se così vogliamo dire lato microsoft viene garantita dalla compatibilità con sistemi vss mentre la consistenza lato linux è una tecnologia esclusiva di dato che diciamo così fa gli snapshot da linux sapete bene che su linux non esiste il vss bene si preoccupa l'agente di dato di fare qualcosa di simile a tutto questo sugli appliance dato e sul cloud di dato si aggiunge una tecnologia che è il file system zfs in letteratura li potete trovare anche su internet come meccanismo copy on write bene il meccanismo di versioning e snapshotting del file system degli appliance dato e del cloud dato è fatto in modo che possa essere ottimizzato diciamo così il backup in termini di tempo in termini di retention in termini di storage in termini di duplica in termini di velocità detto in parole povere visto che abbiamo questa ricetta come si come viene implementata da dato questa ricetta brevissimamente che cos'è il concetto di copy on write e gli snapshot creati con questo meccanismo allora nella parte di sinistra abbiamo un normale backup tradizionale incrementale diciamo così pure ottimizzato fin che si vuole però la storia è questa i backup tradizionali creano vari file per ogni server protetto ogni workstation protetta che sono logicamente dipendenti l'uno dall'altro quindi creano una catena di dipendenza e da qui non se ne esce esistono vari trucchi tecnici facendo dei finti backup sintetici facendo delle ricostruzioni ogni tot però esiste sempre questa catena e rimuovere gli elementi della catena non è sempre possibile o non è sempre facile e poi la catena va in qualche modo ricostruita a carico del software di backup la tecnologia adatto inverse chain technology lavora in maniera diversa cioè si basa su un file system avanzato che ha un versioning integrato cioè tiene un versioning diciamo proprio del file system il che permette di diciamo così spostare meno dati possibili ma avere tutte le viste che vogliamo sui dati salvati per cui ogni snapshot o ogni vista diciamo così è un recovery point a sé stante e lo vediamo nella parte inferiore della figura ed equivale in realtà a un backup full cioè ogni snapshot punta degli elementi di disco ma è autoconsistente ed è auto integrato cioè è completo ogni singolo snapshot pur essendo in qualche modo come vedremo fra un attimo allo stesso tempo differenziale questo vuol dire che io posso cancellare ogni snapshot indipendentemente dalla storia passata e futura ogni snapshot sarà indipendente e questo insomma ha diversi vantaggi se volessi riportare la tecnologia adatto inverse chain technology all'interno degli schemini che vedevamo prima dei backup full e dei backup incrementali la potremmo vedere così allora come sempre si parte dall'inizio quindi primo backup questo non ci piove è sempre full per tutti possiamo farlo più veloce possiamo essere più bravi farlo più ottimizzato però il primo backup va fatto cosa succede il giorno successivo e il giorno successivo vengono modificati solo gli elementi a e d allora guardate che cosa fa dato 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 li va a scrivere in questa maniera crea un nuovo snapshot con scritti su disco a e d effettivamente perché sono i dati modificati o le immagini modificate ma l'intero snapshot di lunedì semplificato con monday contiene dei puntatori ad altre zone di disco ma è indipendente in se stesso lo snapshot e così via per gli altri giorni se io vado avanti a fare un backup viene modificato solo b che cosa succederà che il b viene scritto su disco e il backup del martedì avrà i puntatori alle altre zone di disco alcune a e d quelle modificate per ultime e quelle che non erano mai state modificate dell'inizio saranno dei puntatori alle zone originali e così via va avanti il meccanismo se vado a modificare c ed f ormai avete capito andrà a scrivere veramente quello che c'è modificato ma lo snapshot è autocontenuto con questo gioco di puntatori andiamo avanti nella nostra scaletta e che cosa possiamo fare con questo gioco qui con questo gioco qui poiché ogni snapshot è autocontenuto andiamo avanti fino a friday andiamo a saturday benissimo e ripartiamo anche la settimana benissimo cioè ogni snapshot essendo autocontenuto è completamente indipendente dagli altri cioè fa uso di blocchi di disco di altri ma lo snapshot è automaticamente già ricostruito come fra un secondo vi dirò con ulteriore slide qui c'è un ulteriore esempio se vengono modificati a e la tecnologia va avanti veramente all'infinito perché lo snapshot o il backup usiamo un po' impropriamente entrambi i termini allo stesso modo sono contemporaneamente incrementali e completi allo stesso tempo bene qual è l'aspetto pratico il diciamo così il pro di lavorare con tecnologie di questo tipo e ve la dico subito il valore dell'inverse scusate dell'inverse chain technology sono più di uno allora intanto permette di abbassare gli rpo perché è un sistema di version in integrato che permette di lavorare con backup molto più frequenti arriviamo senza problemi a fare il backup ogni cinque minuti si può fare veramente un incremental forever perché nonostante sia incremental forever è automaticamente allo stesso tempo completo questo è molto amico degli ambienti virtual perché non è mai necessaria nessuna ricostruzione degli snapshot o dei recovery point quindi non appesantisce gli ambienti virtuali il pruning è completamente libero e questo mi permette di costruire delle retention basate su diciamo così ordine temporale in maniera molto semplice cioè non devo preoccuparmi di ogni quanto fare il full ogni quanto fare l'incremental no il sistema è sempre incremental perché è contemporaneamente sempre full e quindi la mia retention e le mie capacità di cancellazione sono molto molto semplici giusto per fare un esempio se ho la slide animata decidiamo di prendere alcuni recovery point e di volerli eliminare diciamo così voglio cancellare dei giorni bene vengono cancellati effettivamente i puntatori e solo i blocchi di disco che vengono scritti per cui la velocità con cui si può cancellare un recovery point è estremamente elevata ed è indipendente dai recovery point precedenti o successivo perché ogni recovery point è autoconsistente qui c'è un altro esempio bene i recovery point come dicevo sono 100% costruiti questo ha una serie di vantaggi posso fare la virtualizzazione istantanea cioè come dicevo prima i dati diciamo così le immagini dei backup vengono scritte in dei container che sono in realtà dei file vmdk sapete benissimo come me che il file vmdk non è solo un container ma è automaticamente la struttura di un sistema completo che può essere quindi virtualizzato istantaneamente ok quindi quale che sia il mio sistema di partenza fisico o virtuale la destinazione è un contenitore che guarda caso è automaticamente una macchina virtuale già pronta che non deve mai essere ricostruito questo vuol dire che io in caso di recovery locale o remoto posso far ripartire istantaneamente i miei sistemi ricerche nei backup siccome sono macchine fatte e finite alla fine della fiera i backup posso cercare molto velocemente all'interno di questi di queste strutture se mi serve qualcosa e altra caratteristica abbastanza gradevole è la possibilità di fare delle verifiche automatiche sulla bontà dei backup già altri sistemi le fanno con tecniche più o meno evolute nel senso che siccome ho un vmdk come file di destinazione indipendentemente dall'origine tengo a sottolinearlo il sistema dato l'appliance dato può caricare e mandare in memoria uno di questi backup e catturare una schermata in maniera tale che diciamo così abbiamo la ragionevole certezza che il sistema possa effettivamente ripartire questo mi consente di fare delle virtualizzazioni in place cioè se io ho i miei backup usiamo questa parola se io proteggo i miei sistemi con un appliance dato e dentro l'appliance dato c'è già queste immagini differenziali ma complete io faccio la virtualizzazione in place cioè se cade muore il server di partenza fisico virtuale io da dentro l'appliance dato posso far ripartire con un click i miei sistemi perché lo ripeto i backup sono già delle macchine complete e già ricostruite ma se volessimo fare un paragone poi vi lascio le slide per vostra consultazione successiva ci sono una serie di tipologie di backup full, full incrementali, reverse incremental, synthetic e così via se andiamo a vedere quali sono le capacità di poter fare le cose vediamo che più o meno tutti i backup hanno qualche capacità il full ha delle ottime capacità l'incremental pure, il reverse incremental pure però nessuno è in grado sempre di fare tutto cioè di ripristinare l'ultimo backup senza ricostruire evitando un sovraccarico di CPU cancellando qualsiasi istantanea di qualsiasi recovery point tranne la tecnologia inverse chain di dato che è stata costruita apposta per soddisfare tutti questi requisiti diciamo così più cari ai sistemisti che agli utenti finali ma poi poiché siamo noi che dobbiamo andare a vendere e implementare i sistemi di protezione interessano una tecnologia che risolva tutti questi problemi bene, quali sono, come dicevo da scaletta quali sono gli effetti collaterali o i benefici di questo tipo di tecnologie e andiamoli a vedere con un sistema di backup tradizionale diciamo che la retention e il backup vorranno programmati e coordinati perfettamente a dovere ogni quanto bisogna fare il pruning del vecchio ogni quanto si deve fare un full bene, dato questo problema non esiste perché non esistono catene possiamo cancellare i backup senza preoccuparsi delle dipendenze dal backup precedente o backup successivo e si possono cancellare arbitrariamente i recovery point che vuoi sia in locale sia nel cloud di dato quindi decidi tu qual è la tua retention un mese, due settimane, tre mesi, quattro mesi, un anno sulla base di quello te la tieni e puoi cancellare senza preoccuparti di nulla un secondo aspetto è che spesso e volentieri esistono ottime soluzioni di backup magari alcune anche a basso costo ma i tempi per mettere in piedi un disaster recovery non sono così ottimali per cui qualche volta esistono sistemi di backup per fare il backup però poi per il disaster recovery ci vuole un altro progetto ebbene con dato possiamo fare una soluzione unica di backup e disaster recovery o backup e business continuity se volete chiamarla così perché tutti quelli che io chiamo backup in realtà sono dei recovery point sono delle immagini già costruite application consistent e già pronte per essere messe in esecuzione o per tirarci fuori i file se devo fare un file level restore ripeto ancora una volta indipendentemente che il sistema di partenza sia fisico o virtuale come dicevo in precedenza avere lunghe catene di backup porta tempi di RTO e RPO non ottimali mentre con un sistema basato sulla tecnologia inverse chain di dato posso arrivare a RPO cioè backup frequenti ogni 5 minuti abbiamo il testing automatico perché i backup sono già delle macchine virtuali avviabili e nessuna dipendenza dai backup precedenti inoltre sappiamo che i backup full ogni tanto bisogna farli perché non possiamo fare affidamento solo sui backup diciamo così incrementali però consumano storage CPU e tempo bene con dato risolviamo questo problema con una occupazione di spazio ottimale poi vi faccio vedere una schermata che dice l'ottimizzazione dello spazio si ottimizza lo spazio perché ho immagini complete sempre compressione in line deduplica in line e questo meccanismo brevettato appunto per cui ogni backup incrementale in realtà è al tempo stesso uno snapshot completo questo diciamo così per quello che avviene direttamente sugli utenti finali ma vediamo al lato quello che ci i panni sporchi si lavano in famiglia quindi diciamo così lato fornitore di servizi T che vantaggi ho beh diciamo che i test dei backup non sempre vengono fatti da tutti vuoi perché il software non lo consente vuoi perché non vengono controllati vuoi perché abbiamo un sistema manuale che ci porta via del tempo bene con dato possiamo fare una test degli screenshot in maniera sia frequente sia automatizzata questo ci permette di essere proattivi e non reattivi proprio ieri ci è successo che uno screenshot di una nostra macchina fosse andato a cattivo fine diciamo così per cui la macchina non sarebbe più ripartita per quel particolare snapshot ebbene è meglio saperlo subito che il backup è stato fatto è stato finito però alla prova di ripartenza quella macchina non ripartirebbe quindi migliora di molto alla soddisfazione dell'utente perché vi permette di essere proattivi voi sapete se la macchina può ripartire o meno esistono fior di sistemi di backup che però richiedono delle installazioni un po' complesse costose e difficili anche se magari ormai ci siete abituati dato da un appliance convergente e integrato che include tutto include lo storage include il software di backup include la virtualizzazione e sono degli appliance per così dire managed cioè non solo sono gestiti da una console centrale per cui voi potete vedere tutto quello che succede potete governare tutti gli appliance che volete ma dato stessa vi puscia gli aggiornamenti sui vostri device quando i vostri device devono essere aggiornati o per il software o per il file system o per qualsiasi altro motivo questo semplifica molto sia la messa in opera iniziale sia la long going maintenance cioè la manutenzione quotidiana di tutti gli apparati abbiamo recentemente ricevuto con piacere delle note di soddisfazione di un fornitore di servizi che ovviamente utilizza software che già esistono sul mercato e ha detto che c'è una cosa molto bella di dato quando vai a installarlo perché ne ha già piazzato qualcuno e la semplicità imbarazzante con cui può mettere in protezione e in disaster recovery i sistemi essendo convergente e integrato si fa molto in fretta a partire molto spesso il backup e i disaster recovery non portano grandi margini spesso perché bisogna sempre limare i costi perché a noi stessi costa tanto tenere in piedi una soluzione di disaster recovery e qualche volta io so di qualche cliente che addirittura per lui può rappresentare un costo tenere un sistema di backup e disaster recovery bene, quelli di dato sono costruiti per generare flusso di denaro come vedremo tra qualche slide il modello commerciale è pensato proprio alla generazione del flusso di denaro ricorrente e permette di erogare servizi ad altissimo valore aggiunto perché tutta la complessità e la difficoltà tecnologica è risolta da dato noi dobbiamo tra virgolette solo vendere e gestire questa tecnologia quindi allora quindi andiamo a riprendere lo scenario iper incasinato che avevamo visto prima si è iper incasinato però rispecchia abbastanza la realtà dei fatti e quello che ognuno di noi si è messo in piedi i sistemi di disaster recovery ha dovuto affrontare se io introducessi la tecnologia dato qui dentro con tutti i vantaggi che abbiamo visto prima che cosa succede vediamo subito vado ad inserire un appliance dato nel mio sistema nella mia rete allora istantaneamente scompare lo storage di backup perché è autocontenuto nell'appliance istantaneamente scompaiono i sistemi di gestione del backup o di gestione del restore perché sono integrati all'interno dell'appliance dato cioè il software di governo è integrato in dato se vado a mettere anche la replica nel cloud dato cosa posso fare? non mi servono più i miei sistemi host di ripartenza non mi serve più in nessuna maniera il mio cloud scusate il site di disaster recovery che avevo costruito perché è tutto autocontenuto nel cloud di dato quindi diciamo così mettendo un solo appliance risolvo di molto la semplicità locale e risolvo completamente la parte di disaster recovery a semplificare anche la struttura locale togliamo come ultimo punto un muletto o un sistema di recovery ripartenze locali perché ancora una volta tutto questo è integrato nell'appliance di dato benissimo a testimonianza di quello che vi voglio che vi ho appena raccontato vi porto una recensione comparsa qualche giorno fa il primo marzo in maniera particolare sul nostro sito da un partner che ha scelto dato e la potete leggere o sul sito o sulla slide diciamo che la cosa che più l'ha colpito è che in meno di 12 ore lui ha messo in piedi una reale soluzione di business continuity 12 ore inteso anche il backup della macchina testato con vera simulazione cioè il cliente ve lo racconto perché non ha detto gli ha tolto la corrente dal server di produzione mentre le altre persone lavoravano ovviamente è venuto un infarto al nostro partner e in meno di 20 minuti l'azienda ha ripreso il regolare funzionamento è stata ricreata la macchina virtuale scusate è stata avviata perché era già pronta sul device di dato e tutti gli utenti hanno potuto riprendere a lavorare tranquillamente mi fa piacere che il cliente dica favoloso è la parola giusta volevo portarvi un esempio della vita reale che deriva da server che sono in produzione in ACAB per quanto riguarda l'efficienza e l'efficacia dello storage quando si lavora con la tecnologia dato inverse chain technology allora potete vedere in basso a sinistra che io ho 774 gigabyte da proteggere rappresenta diciamo così l'insieme dello spazio disco occupato sulle macchine di produzione che stanno in cloud sulla destra avete l'occupazione effettiva occupata dai backup dei singoli server e se andiamo a fare un conticino viene fuori che sono occupati 790 gigabyte la cosa che mi piace farvi vedere è che sono 774 gigabyte di dati veri da proteggere e i dati e le macchine backupate sono solo 790 giga quindi io ho meno di 20 giga di spazio occupato pur avendo tutti i backup tutte le macchine virtuali pronte a ripartire grazie al sistema inverse chain technology quindi posso risparmiare veramente un botto di soldi sullo storage consapevole del fatto che ho anche tutti gli altri vantaggi quindi backup indipendenti l'uno dall'altro e ognuno pronto a partire ed essere avviato bene come la domanda è come viene portata questa tecnologia sul mercato allora dato porta questa tecnologia da parecchi anni e ovviamente migliora di giorno in giorno diciamo così ci sono ormai decine di migliaia di installazioni nel mondo dato che cosa fa dal 2007 fornisce alle aziende solo tramite canale e partner qualificati come voi soluzioni complete di backup disaster recovery e business continuati perché dico soluzioni complete sono soluzioni complete perché sono onnicomprensive includono l'hardware e software sono complete perché sono sia un premise sia cloud se qualcuno vuole solo on premise va bene se qualcuno vuole on premise e cloud insieme va bene anche quello perché per farvi ripartire durante il disastro se la vostra sede non è più disponibile avete il loro data center le ip le nat le vpn e danno il loro supporto e cosa assai gradevole il prezzo è fisso cioè una volta stabilito il contratto lo spazio che dobbiamo proteggere e così via nel cloud il prezzo è fisso non avete sorprese variabili in base a quanto spazio andate a occupare come funziona dal punto di vista tecnologico funziona in questa maniera qua dai nostri clienti abbiamo i nostri bravi sistemi database applicazioni email file server workstation tutto quello che volete andiamo a inserire un appliance dato che può essere fisico o virtuale hanno il pro e contro entrambi gli strumenti appliance dato che io vado a inserire nella rete di questo cliente così come negli altri clienti e io potrò da una console cloud governare tutti i dispositivi il device dato protegge con la tecnologia inverse chain technology tutte le mie macchine di produzione abbiamo detto prima che la tecnologia mi permette di fare degli screenshot automatici per capire se le macchine sarebbero in caso di ripartire e qualora veramente i sistemi non fossero disponibili i sistemi di produzione avessero un crash o doveste semplicemente fare della manutenzione ebbene dall'interno dell'appliance dato poiché tutti gli snapshot sono consistenti full e sono delle macchine complete io posso virtualizzare da dentro l'appliance dato solo con un pulsante senza preoccuparmi di niente le applicazioni in maniera tale che io possa riprendere a lavorare qualora succedesse un disastro di dimensioni più grandi per esempio la sede inagibile per un incendio mi auguro che non debba mai succedere ma l'abbiamo già sentita questa storia bene se io sono coperto anche dal cloud di dato tutto quello che c'è dentro l'appliance di dato viene replicato nel data center di dato in maniera tale che ci siano sempre pronte e disponibili le applicazioni dei clienti i server dei clienti e io con un singolo click posso farle ripartire in che cosa dato è differente è differente diciamo così gli elementi caratteristici veri e propri sono questi hanno una tecnologia che permette di lavorare con un sistema di hybrid cloud quindi solo locale oppure locale più cloud sempre managed hanno un sistema di protezione basato su immagini sistema di protezione basato su immagini che permette però anche di recuperare singoli file o la garanzia di ripartenza perché con il sistema automatico di testing degli screenshot che fa ripartire le macchine e cattura le schermate sono abbastanza tranquillo che i sistemi possano ripartire o la virtualizzazione istantanea sia in locale sia in cloud la cosa divertente di questa caratteristica è che clienti diversi ci dicono cose diverse abbiamo un cliente che ci dice dato è fantastico perché senza nient'altro ho la ripartenza locale assicurata perché è tutto integrato anche il virtualizzatore qualcun altro invece ci ha detto dato è fantastico perché io senza fare niente ho un cloud pronto a ripartire quindi il fatto che la virtualizzazione istantanea sia possibile sia in locale sia in cloud soddisfa diciamo così tanti palati e infine tutte le tecnologie di dato permettono di avere degli eccellenti rpo e rto che vanno verso la business continuity appunto perché fare un backup e semplicemente lanciare un salvataggio poi il problema è quando devi recuperare i dati o peggio ancora un server un'applicazione o peggio ancora due o più server che devono lavorare insieme fra loro bene questa soluzione completa come è fatta dal punto di vista vostro cioè se qualcuno di voi che ne ascolta dice bellissimo mi interessa questa tecnologia che cosa deve fare come fa a partire il meccanismo di dato funziona così esistono due componenti una componente che è un acquisto una tantum e una componente che è un canone mensile fisso che ovviamente poi a vostra volta riverserete sui clienti la componente una tantum è costituita dallo storage locale che in realtà poi abbiamo visto che non è solo storage e storage include il sistema di gestione backup include il virtualizzatore include il diciamo così una serie di meccanismi di buyback del fornitore per cui se uno storage non vi passa più e ne volete uno più grande il fornitore ve lo ricompra semplicemente facendovi pagare la differenza di prezzo comunque questo è il momento iniziale della partenza o un device garantito tre anni che include deduplica e compressione il canone mensile fisso mi paga i servizi mi serve a pagare i servizi quindi il software di backup con gli aggiornamenti le repliche nel cloud lo storage cloud illimitato la retention cloud che può essere di 1, 2, 10 fino a 10 anni la virtualizzazione istantanea e soprattutto il supporto di dato in caso di disaster recovery business continuity perché nel caso di disastro vero non dovete essere voi a preoccuparvi di far ripartire tutto ma si può chiamare dato e dire ragazzi siamo in braghe di tela siccome i server sono presso di voi occupatevi voi di farci ripartire naturalmente con la nostra assistenza e consulenza quindi questo è il meccanismo con cui dato arriva sul mercato la proposizione per voi la proposizione tipica nei confronti che fa un service provider dell'utente finale e dirgli io non ti vendo un backup non ti vendo un software ti vendo la garanzia che tu possa garanzia ragione che tu possa ripartire e questo ha un costo mensile di tot i listini di dato non sono pubblici proprio per questo motivo perché ogni service provider può fare la sua offerta prima di andare verso la conclusione volevo ricordarvi una cosa che a giugno a Nashville negli Stati Uniti c'è la dato conference che è la conferenza annuale dei service provider che usano dato che l'anno scorso ha contato più di 750 partecipanti da tutto il mondo conference durante la quale vengono fuori spunti commerciali spunti tecnici roadmap e c'è possibilità di relazionarsi confrontarsi e anche di divertirsi io torno da queste convention sempre molto gasato perché si vede il futuro ecco soprattutto lavorando anche con service provider stranieri ebbene vi ricordo che c'è un'iniziativa in corso che terminerà a marzo ma è già in corso da un mese e mezzo a Cabedatto ti portano gratis negli Stati Uniti abbiamo un contest se volete poi vi faccio ricontattare dal nostro commerciale di riferimento Marco Gallazzi abbiamo un contest grazie al quale chi vende il maggior numero di device o chi fa il maggior fatturato entro un certo periodo vince un viaggio con noi negli Stati Uniti e andiamo insieme alla conference di dato perfetto adesso andiamo veramente verso la conclusione a questo punto direi che possiamo cominciare una sessione di domande e risposte diciamo così nei limiti di quello che abbiamo visto sappiamo benissimo che via webinar in remoto non è possibile fare supporto tecnico ma se avete delle domande fatele tranquillamente e intanto dico già un ordine di grandezza perché durante il webinar era venuto fuori parlare dei costi è sicuramente abbastanza difficile perché le vostre situazioni nelle quali andate a calare le realtà sono abbastanza complesse dunque vado a rispondere a qualche prima domanda intanto mi viene segnalato quando io ho fatto l'esempio di sede inagibile per incendio in realtà qualcuno mi ha detto è successo sede inagibile per tromba d'aria eh purtroppo succede anche questo domanda di Luca intanto invito gli altri a fare tutte le domande che ritengono opportune se è possibile salvare anche su libreria Nastro no questo non è possibile salvare su libreria Nastro diciamo così perché la tecnologia di dato è orientata alla ripartenza per la delocalizzazione se questo è effettivamente il dato c'è la possibilità di replicare nel cloud di dato e tenerli lì per 1 3 5 fino a 10 anni tutti i nostri vari bravi salvataggi dunque domanda di Nicola posso usare la tecnologia di dato su sun o nas tradizionali no in questo momento non è possibile non ho previsioni che sia possibile anche perché diciamo così per riuscire a fare un meccanismo di questo tipo che sia sicuramente funzionante devono avere un po' il controllo di tutto è un po' come dire la tecnologia poter utilizzare perdonatemi il paragone il software dell'iPhone su un altro cellulare e devono avere il controllo di tutto per poterti garantire un'esperienza di questo tipo ci sono alcune possibilità vi farò contattare dal commerciale Marco Gallazzi di riutilizzare una struttura VMware esistente software un host e una sun si in qualche modo è possibile nel senso che esiste una chiavetta che vi permetti di generare un sistema adatto se avete dell'hardware da riutilizzare naturalmente non va bene un NAS da 25 euro però se hai una una vecchia infrastruttura diciamo così con host più sun si può verificare se è nella lista di compilità di questo sistema Luca ricordati che ti faremo contattare allora domanda di Leonardo se è possibile replicare dato in una sede remota e non nel cloud dunque è tecnicamente possibile ma non è la prima opzione che ti consiglierei io dato replica nel suo cloud e nel suo cloud c'è una sorta di dato server se così vogliamo chiamarla si chiama dato node costruito sempre con tecnologia dato che riceve tutte le repliche quindi quello che dovresti fare tu è comprarti un dato node e metterlo nella tua sede remota quindi è sicuramente fattibile normalmente per questioni di di margine di costi di rivendibilità della proposta è più comodo andare sul cloud di dato però Leonardo è una cosa che è possibile fare poi Luca non so rispondere al volo a quella domanda che fai sull'Eternus ti faccio chiamare direttamente dal nostro Marco Patrizio chiede se è possibile un restore granulare per SQL server exchange la risposta è sì è già integrato facevo menzione durante il webinar che appunto non devo preoccuparmi delle licenze aggiuntive o meno perché è all inclusive a prezzo fisso non c'è il ripristino granulare da active directory allora Luca mi chiede che impatto ha il cloud dato sulla larghezza di banda allora adesso ve lo dico fermo restando che vi segnalo che c'è un documento sul nostro sito che spiega quanto tempo ci vuole a trasferire i dati diciamo che dato da questa stima se tu hai un terabyte di dato sul dispositivo dato per tenerli allineati e aggiornato ci vuole un megabit di banda in upload adesso non so esattamente le situazioni nelle quali vi trovate però i nostri server di produzione in cloud che sono 8 occupano meno di 800 giga per cui dire un tera un megabit è una cosa abbastanza ragionevole e soddisfacente tenete conto di due cose che il primo backup assoluto che sarà grosso potete mandarlo nel cloud tramite un disco anzi se al momento dell'ordine dite ad atto che volete fare un seeding come si chiama se volete mandare un disco nel cloud il disco ve lo paga ad atto ve lo manda giù all'ordine voi lo mandate su lo mettono loro nel cloud e da lì inizia la sincronizzazione delle repliche dunque Nicola chiede se esiste un listino hardware e canoni oppure bisogna avere quotazione per ogni possibile scenario no esiste sicuramente un listino che è riservato ai service provider per cui non è pubblico e la cosa migliore da fare è fare insieme a Marco Gallazzi che è il nostro commerciale di riferimento un preventivo su uno scenario reale insieme per capire come funziona e dopo una volta che tanto hai il listino in mano sei in grado anche tu sia di farti i tuoi conti sia di chiedere consiglio a noi su qual è la cosa migliore da fare per cui la risposta esiste sicuramente ma se lo pubblicassi in una slide non sarebbe comprensibile perché il primo va spiegato come va costruito questa è la risposta per Nicola dunque Gabriele che sono sicuro che mi farà una domanda impegnativa mi dice negli esempi di inverse chain non è proprio vero che ogni backup incrementale è completamente autonomo in quanto ad esempio C dipende comunque da B per via del puntatore o qualcosa che mi sfugge allora dunque ottima domanda Gabriele si vede che hai seguito esattamente il webinar allora questa è una tecnologia brevettata per cui come funziona veramente è sotto brevetto diciamo che quella dei puntatori è la caratteristica più simile da poter mettere in una slide dunque è indipendente nel senso che non devi far niente per ricostruirla se cancelli quello prima o quello dopo non cambia niente per lui in questo senso è indipendente esiste il fatto dei puntatori nel senso che lui su disco se una cosa apparteneva a un vecchio backup la lascia lì in questo senso è indipendente non va a riscriverla se non è strettamente necessario questo in questo senso se poi volessi fare delle prove tecniche esaustive possiamo provare a concordare qualcosa spero di aver spiegato abbastanza se no rimandiamo a una discussione offline senza diciamo così coinvolgere necessariamente tutti vedo che il flusso delle domande si è almeno per il momento interrotto se ci fosse qualche domanda dell'ultimo momento eccola qua che arriva quando si va verso la conclusione nascono sempre dunque Michele ottima domanda di Michele mi interessa capire se sia possibile eseguire backup in cloud di server installati in internet data center e raggiungibili solo tramite connessione remota la risposta è sì ti faccio contattare da Marco eventualmente io per approfondire il discorso noi siamo esattamente in questa situazione qua noi abbiamo un service provider un data center che gestisce solo macchine virtuali e lì sono i nostri server di produzione abbiamo messo una macchina virtuale dato un dato virtuale che mi fa sia il locale sia il remoto per cui la risposta è possibile approfondiamo Michele e Emilio che ha detto che anche lui lo interessa vi faccio contattare direttamente da Marco a meno che non abbiate già scritto nel survey che volevate essere contattati e la situazione che abbiamo in produzione in Acab in questo momento va bene io andrei verso la conclusione allora dicevo andrei verso la conclusione vi ringrazio per questo resta che siete rimasti con noi a chiacchierare di tecnologie di backup vi auguro buon lavoro naturalmente col backup e disaster recovery di dato buon proseguimento di giornata a tutti